Sono ormai anni che sono legata ad una passione particolare. Il montaggio video, o comunque la creazione di contenuti video sotto ogni aspetto, è un qualcosa che mi affascina molto. Dal 2012 seguo YouTube e i suoi primi creator. Canesecco fu il nome di un canale che mi ispirò per la prima volta a realizzare i miei primi contenuti con la telecamera. Ancora non erano professionali e non erano montati, però stavo iniziando a capire che era un qualcosa e un mondo che mi interessava. Sono partito con il maneggiare e controllare le riprese, quindi come un video potesse venire sotto quel punto di vista. La gestione di un'inquadratura, la sistemazione delle luci di un cavalletto per realizzare appunto semplici video. Dopo poco mi sono accorto però che la post-produzione, quindi quello che veniva dopo, era qualcosa di più interessante. Mettermi al computer per editare mi piaceva di più. A volte per poter montare un video addirittura mi mettevo a registrare semplici video, banali, veloci, solo per il gusto di editarli dopo. Fino ad arrivare adesso addirittura a farlo come piccolo lavoro, praticamente aiuto dei ragazzi nel web a montare i loro contenuti. Sono praticamente il loro editor. Sapevo che un qualcosa di semplice sarebbe potuto diventare bello. Mi sto mettendo in gioco e sto vedendo sempre più vicina la realizzazione di questo sogno. Grazie. Grazie.